Ciao Serena, ciao Memo Come stai? Non a caso vedi, io amo perché c'è pure io amo, c'è pure Drupi collegato Giampiero? Giampiero c'è anche Dorina, scommetto che c'è anche Dorina Eccoli, Think Different, hai Frida Kahlo sulla maglietta Che bel sorriso Dorina Senti, ti vedo in formissima Serena, com'è? Io? Sono un po' ingrassata, non si vede, meno male No, non si vede, giuro, non si vede Senti, ma questa televisione cos'è dedicata? Fasano? Eh, vabbè, ma tu sei un pezzo importante della vita di Fasano E io ci devo essere per forza, volevo evitare insomma Ma come potremmo evitare? Ma ti pare modo di cominciare un altro? Simpatico lui, eh? Siamo amici Eh, meno male che amico, scherzo dai ovviamente, si capisce che scherza Da quanto vi conoscete? Da quanto tempo vi conoscete? Ma guarda, io lo conosco ancora prima che lui mi conoscesse attraverso tutte le sue canzoni Io ero un grande fan e con la mia prima band, La Bella Età Cantavamo tutte le canzoni di Riccardo Albertelli, quelle di Drupi E poi un giorno sei tu a scrivere Regalami un sorriso La vediamo insieme, vai Regalami un sorriso Regalami un sorriso Ti chiamano la voce negra di Sanremo Ti piace questa cosa più? Oppure è sempre una cosa ripetuta che alla fine può anche stufarti? No, perché? No Cantare dei colori sono bravi Sono bravi Il resto è un grosso, un grosso complimento Regalami un sorriso Per le mie notti insonni Per i miei giorni tristi Se tu non ci sarai Lo giocherò alle carte In una mano sola Sfidando la mia sorte Per una volta ancora Regalami un sorriso Che mi rimanga addosso Come se fosse il nome Che un giorno mi hanno messo Regalami un sorriso No, segnalo che qui Franco stavi suonando Ti sei fermato quando potevamo ascoltarti Scusami Ma è vero che tu avevi fatto una versione completamente diversa Da quella che poi è stata portata a Sanremo? Ma guarda In realtà io non ho mai scritto le canzoni apposta Per le grandi voci che poi le hanno cantate Le scrivevo per me Meno male che però nel caso di Drupi Ha incontrato lui Perché poi lui l'ha resa più moderna Io pensavo L'avevo scritta che sembrava un minuetto Tipo? E fammela ascoltare Sono curiosa Regalami un sorriso Per i miei giorni tristi Per quando farà buio E tu non ci sarai Poi lui l'ha drupizzato L'hai drupizzato? Beh l'hai resa un po' più blues No? E certo No lui mi ha portato una roba Che a parte il titolo Sembrava una cioffecca tremenda Però il titolo era talmente accattivante Il testo Ma sentivo che c'era qualcosa Proprio per futuro ho incontrato Non so se vi ricordate I PhD Un duo inglese straordinario Di musicisti bravissimi Eravamo a un festival a Bari Al Petruzzelli Diventavamo amici Li fece ascoltare questa canzone Che sento che è bella Però così fa schifo Non mi piace insomma E lui in una notte Con una testierina Inventò questo arrangiamento Che fece diventare poi la canzone un successo Perché se la meritava Purtroppo per Franco È una canzone che merita Mi dispiace dirlo ma Ti puoi vendicare Fasano? Fasano ha la facoltà di vendicarsi? Impossibile Quando le canzoni fanno così successo Vuol dire che ha ragione lui Vuol dire anche che la tua musica era bella Però scusami Però la tua versione era più romantica Lo sai anche di natura? Ma io sono romantico di natura Sono portato a innamorarmi delle cose belle E peraltro i tuoi genitori si parlavano in musica giusto? Assolutamente sì Cioè che facevano? Niente innanzitutto mio padre è fotografo Pugliese Si trasferì a Torino Mentre mia mamma era una ragazzina Che dava al d'Aosta per studiare Nel pomeriggio andava ad aiutare Quello che poi sarebbe diventato il mio papà Suo marito La loro canzone era questa Chissà come l'avrebbe fatta Drupi questa canzone Drupi come l'avresti fatta a Maruzella? Bellissima D'addio perché è una canzone che amo da morire questa Grande Carosone Io amo tutto di Carosone Anche quando steccava E ho avuto un onore incredibile Non mi ricordo più Eravamo alle prove di un festival di Sanremo credo E lui si avvicinò E mi dice Senti io vorrei farti complimenti Ho detto lei a me i complimenti Ma io le bacio le mani Io l'abbraccio In ginocchio Grande pianista Grande Carosone Beh delizioso Enorme Comunque anche Franco fa un suo primo Sanremo È il 1981 Vediamolo Franco Pasano Un'isola alle Hawaii Un'isola alle Hawaii A quel concorso Pochi chilometri fuori Milano So chiudi gli occhi E fai le valigie Che adesso partiamo Franco la tenerezza assoluta Allora devo fare un piccolo passo indietro Allora Tuo padre faceva il fotografo Assolutamente Vi trasferite in Liguria E papà di Franco Pasano Faceva il fotografo a Sanremo Era uno dei fotografi ufficiali di Sanremo Per cui il cui presente Il cui presente è Fasano Franco Spira l'ebbrezza Di quel palco Fin da piccolissimo Da piccolissimo Avevo 8-9 anni Anzi 9 anni Quando mio papà Mi fece il mio primo pass da fotografo Io entravo dalla porta girevole Allora si faceva Al salone delle feste Del casino E mi fermavano Dove vai tu Benin Dove vai Io dicevo Invece io sono fotografo Ti dicevo Amore catenere Ti facevano passare Ti facevano passare Poi mio padre aveva la forza Di riuscire a fermarmi Con tutti quelli che mi piacevano Che tutto sommato Non erano poi altissimi Per esempio Guarda villaggio qua Si era anche piegato Per stare nella fotografia Ma sei meraviglioso Però vedi Si legge l'entusiasmo nei tuoi occhi Sì sì Quindi tu ti fermavi Avevo una macchina Unistamatica Delle mani Poi c'erano anche Altre fotografie Ricordo Ricordo che c'era Anche Renato Russell Cosa borbotta Giampiero Dupi Che c'ha da borbottare Eccolo Russell Come è Adorabili No no Stiamo parlando Io e Dorina Per vedere Quanto era dolce Mi ricordava Il mio secrestano Don Fiorino Era un picco Così con quei riccioli Con quegli occhiali È fantastico E poi Vieni anche folgorato Da José Feliciano Feliciano Guarda Era il 27 febbraio Del 71 Io per la prima volta Andai proprio a vedere Il festival vero Non le prove E quando L'anno in cui vinse Nicola di Bari Avevi 10 anni Io avevo 10 anni E cantava questa canzone Che poi è stato un po' Il senso della mia vita Paese mio che stai Sulla collina Disteso come un vecchio addormentato La noia l'abbandono Niente Adesso ho la tua malattia Paese mio ti lascio Io vado via Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Vai Drupi Che sarà Della mia vita Chi lo sa So far tutto O forse niente Da domani Si vedrà Ah ma questo è me Franco E sarà Sarà Quei che sarà Grande Memo E Chitto Lo poteva dire A quel ragazzino Che a 10 anni Guardava José Feliciano Che un giorno Avrebbe scritto Alcuna delle canzoni Più belle Della storia Della musica E direi Che possiamo Vederci E le canzoni Che hai scritto Per Fausto Leali Dai Così Così facciamo Un po' di mente locale Vai Sfadiglia Piano Un attimo Tra le persiane Un po' di blu Mi sveglio Già Mi batto In testa Amo Io Ti manchi E potrei Cercarmi un'altra Donna Amato Mi cadere Senza Rimorce Senza Dile Il freddo Delle mie Mattire Quando mi guardo Intorno E scendo Che ti manchi Quando mi guardo intorno E scendo Che ti manchi Che storia Ciao Adesso ho visto Fausto Leali Quindi Cosa succede quando tu scrivi una canzone Il cantante Poi c'è condominio Sull'autore Insomma Che lo scrive Perché scrivi delle canzoni vincenti Ma sai Guarda Devo dirti Amore Mi manchi Poi Ti lascerò Evidentemente E' stato un filone E' stato un attrip Una serie Ma eri al servizio militare Quando hai scritto Quando ho scritto Io Amo La prima canzone Che tra l'altro L'ho scritta prima una sera Con Italo Ianne E poi con Toto Coutugno Se non fosse stato per Toto Coutugno Quella canzone sarebbe rimasta Chissà quanto tempo nel cassetto Lui ci lavorò anche Nella parte musicale Ma la cosa divertente E' che a militare Nessuno sapeva che l'avevo scritta io E quindi ogni tanto Vedevo i miei commilitoni Che la cantavano Io Amo Io Amo E gli si mettono la barba E tu gli dicevi Guardate che mi ha L'unica cosa che sono riuscito a fare E' andare dal mio comandante Siccome ci tenevo a stare Era un momento magico per me Non fare il militare troppo lontano E quando gli ho detto Che io facevo il musicista Lui mi ha detto Sì ma che cosa scrivi tu Che canzone Io ho detto Sono in classifica Con una canzone Che è appena stata a Sanremo E lui mi ha detto Io Amo Quella di Toto Coutugno Insomma poi mi ha trasferito a Milano Però ho dovuto Il giorno di ferro agosto Tornare in caserma E cantare per la loro festa Mi sembra il minimo Dai Non te ne sei approfittato Ma Toto Coutugno Lo senti? Come sta? Certo Beh insomma Toto Coutugno Ha attraversato un periodo difficile Della sua vita Però sai Noi ci sentiamo Tra l'altro il libro Si chiama Io Amo Come la nostra canzone Quindi è stato uno dei primi A saperlo Insieme a Fausto E Italoianne Con un aneddoto Un ricordo Di quando vi siete conosciuti Perché tu eri comunque ragazzino L'aneddoto di Toto Coutugno È stato Lui era appena tornato da Sanremo Quando cantò l'Italiano Un successo planetario Io mi ero messo in mezzo In testa Di far ascoltare Io Amo Che non aveva nemmeno tutto il testo Aveva anche un'altra parte musicale A lui perché Lo vedevo come l'unico Che potesse arrivare a Billy Joel Ah tu volevi che la mandassi in America? Sì Tu giustamente volavi alto Cioè Drupi fa così Ma c'era teazione Avevo questo sogno E poi quando lui la cantò Quando lui insomma La completò questa canzone Non vedevamo l'ora di dirlo anche a Italo Allora è venuto nel monolocale Dove io abitavo a Milano È presente nel monolocale di Pozzetto Ti dici tavi Tac C'era la cucina Tac Il pianoforte Tac Il pianoforte Ma era il tuo o il suo il monolocale? In affitto Lui lo voleva comprare subito Però ha detto Aspetta non è mio Insomma Si mise al pianoforte In maniera un po' energica E prima ha detto Ma ti disturba qualcuno Quando tu suoni? Io ho detto No 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 Puoi andare tranquillo Appena ha cominciato No ma va Se mira il cielo Sai con la sua voce Trompente Abbiamo sentito E allora Io ho detto Ho aperto la porta E detto C'è tutto Cotugno E che me frega Mi sembra meraviglioso Va bene Fausto Leali ti manda un messaggio Lo ascoltiamo Ciao Franco Beato lui che sta a Venezia Salutiamo anche Venezia Io ogni volta vedo queste clip Da posti meravigliosi Dico ma pure io vorrei Allora Drupi Torniamo a quel 1982 Che è anche il primo Sanremo Che è anche il primo Sanremo Durante le prove Durante le prove Quando per te Mi sono emozionato Mi è venuta la voce Sai quando respiri l'elio Con i palloncini Non riuscivo proprio a cantarlo Ma anche perché Insomma Poi c'era mio padre C'era mio padre sotto che faceva le fotografie Mi ricordo che c'era Adepsa Mio produttore Al quale io devo molto Perché praticamente Mi ha insegnato anche il mestiere E hanno detto Ma Fasano Lo produci tu No Ha detto lui Ripudiato Ma come Mi ripudò E invece l'82 Arrivi come autore Con Quale canzone Una grande voce Quella di Marina Fiordaliso Ok Stita proprio insieme ad Adepsa Pirazzoli E poi c'è stata una cosa particolare Perché partecipò Stita da autori italiani Una canzone in francese Non so se ti ricordi Plastique Bertrand Plastique Bertrand Diciamo un gigante Dei nostri tempi Io bambina Ho visto gli anni 80 Nel modo più divertente possibile Vabbè lo vediamo subito Dai E la mia mente ma via Mi sto cornetto Che c'è da questa sporca poesia Allora va detto che il fucsia è una cosa particolare a flu è tornato di moda io non l'ho mai abbandonato ma io sono un caso a parte Drupi c'eri anche tu con Soli, arrivi terzo cosa ricordi di quell'anno? eh poco ricordo poco a dirvi la verità non lo so come mai penso che è l'unico l'unico cinema dove ho fatto un piazzato eppure me lo ricordo pochissimo la canzone me la ricordo ma adesso mi ricordo poco di Fasano proprio non mi ricordo nulla di che cosa non ricordi nulla? che succede? della partecipazione di Fasano ah beh perché non c'ero ma la smettiti ma la smettiti di fare queste battute ma tu fai sempre così con le persone le quali vuole bene ma pure con te Dorina fa così no è in quel caso Dorina che le fa a me brava vendica Fasano Dorina non mi permetterai mai di prendere in giro fare delle battute a persone che non rispetto bravo così si fa Dorina ma te l'hanno messo il microfono? mi piace ce l'hai il microfono? no non gli ha messo il microfono è arricolare non ti sento ma non si fa così avvisatemi allora perché io sapevo che era in collegamento ma cos'è sta tortura? cos'è questo maschilismo? vedi come mi avvicina non è che sente la mia mancanza vuole sentire dall'unico auricolare cosa state dicendo ma che facciamo? risparmiamo sull'auricolare? vabbè ragazzi sono senza parole senti Plasti Bertrand diciamo niente resterà impunito come diceva la rubrica di cuore abbiamo Titova e Peron pronti a ballare per noi su ping pong ping pong ma come nacque questo Plasti? guarda molti mi chiedono ma di una canzone che quando scrivi nascono prima le parole o la musica in questo caso è nato l'effetto mi diede il titolo e ho fatto e poi sono partito e tu hai pensato funzionerà? beh la penso abbiamo pensato un po' tu ha funzionato prego come si agevoli la musica questa è una Marcord una Madeleine per l'Aportone stava a casa a vedere Sanremo da Puba vai ping pong ping pong je t'aime et tu m'envoie la belle ping pong ping pong papà di rosa c'è male ping pong ping pong c'è le tue che ribondì c'è dei gammè la partita l'amor è un match qui se joue a la partita No, mi ha detto che Fasano, voi bravissimi, rifarmi un po' tutto il video, appena sento la... Le parole non me le ricordo. Come sta Plastic Bertrand? Benissimo, mi ha fatto un regalo, mi ha mandato un video proprio il giorno del mio compleanno, il 30 giugno. Facciamolo ben tornare qui Plastic Bertrand. Dobbiamo. Ma lui lo parla l'italiano, sì? Beh, come io il francese. Vabbè, quindi un po' così. Ma canta, sta in bed, dove canta ancora? Ma lui è sempre stato un produttore di se stesso, in realtà. Ci sono delle storie anche sulle sue incisioni, però informa e ti prometto che mi informo. Sarebbe bello tornare con lui. Vogliamo ballare, mi in pomping pong, Jessica nauseata. Allora, l'82 invece, tu eri lì comunque a Sanremo, c'è di presente, no? Certo, sì, sì. C'è stato un casino con Claudio Villa. Eh, raccontamelo un po'. Ma io ero lì come autore quell'anno, però eravamo in gruppi diversi, no? Cioè, l'anno prima anche, tu devi sapere, quando io ho cantato l'Isola alle Hawaii, ero nel gruppo A, che era una specie di nuove proposte allargata. E quell'anno con me c'erano Te Crescenzo con Ancora, c'era Fiorella Mannoia Caffè Nero Bollente, Luca Barbarossa, che poi è diventato un grande, e poi c'era Orietta Berti, che non era con Fedes Achille Lauro. Però cantava già un pezzo di Lauzi, che si chiamava La Barca non va più, già allora. E invece Claudio Villa fu eliminato l'anno dopo. Ma guarda di qua, qua non era, era il giorno della Sanremo, era prima, era qui. No, 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 qui eravamo nel negozio di mia mamma, perché mia mamma, a differenza di mio padre che era un modugnano, mia mamma adorava Claudio Villa. E mio padre gli fece il regalo, un giorno lo portò in negozio e lì c'era l'autorvo che mi fece Claudio Villa. Ed è per quella fotografia lì che io ci rimasi male quando Claudio Villa, il reuccio della canzone, fu eliminato nell'82. E che successe? Vennero quasi alle mani. Ma con chi? Con l'organizzatore. Lui sosteneva che non ci fossero state le giurie, questo non si saprà mai. In che senso non ci fossero state le giurie? Claudio Villa sosteneva che le giurie, le proiezioni in quel Sanremo non c'erano, che erano tutti accordi con le case di Sanremo. Che c'erano le broglie. Esatto, sì. E tu sentivi urlare... Dietro le quinte, io non ero sul palco quell'anno però, però devo dire una cosa, qualsiasi sia la verità, quell'anno c'era Riccardo Fogli che con storie di tutti i giorni vinse un Sanremo e penso che più di lui non poteva essere... Drupi, ti sei mai arrabbiato per un risultato di un Sanremo o di una gara che ti ha deluso? Sì, con l'anno lì perché mi hanno tolto l'ennesima possibilità di arrivare ultimo. Smettila! E allora quell'anno sono arrivato terzo, mi sono incavolato come un pazzo, c'è qualcosa che non va. E adesso Franco mi sta dando la certezza di questa cosa, c'erano i brogli. Ascoltiamo un po' di successi di Drupi, vai. Mettete il microfono a Dorina, cioè vabbè, andiamo. Così il pittorale, è un fragile, è un samba più, è un samba più, è un samba più, è un samba più. Sì, è un samba più, è un samba più, è un samba più. Al fianco mio, il lotto di continuo con i tuoi, non ci capiscono, i tuoi problemi sono anche i miei. Che canzoni! Le sa tutte, le sa tutte. Proviamo a cantarne una insieme. Non so se... Giampiero, Drupi? Grande, Drupi, fermatelo! Fermatelo! Denunciatelo! Amist international! Senti, ma ci sarà una cosa che ti fa arrabbiare, Drupi, Dorina? Che cosa è che lo fa arrabbiare a tuo marito? Una cosa ci sarà o è sempre così spensierato? No, è spensierato, però qualche cosa ogni tanto lo può scattare. Tu si vuoi sempre sfrugugliare, puoi farci litigare a tutti i costi. Ma non tra di voi! Quando va un'altra! Se non vuoi rispondere, le pazienza! Lei, se vuole risponderti, è qua, non è mica... Cos'è che fa arrabbiare tuo marito? Ma adesso, in questo momento... Diglielo, diglielo! Che continui a fare le pulizie! Eh sì! Sempre a pulire! Un altro che ha pesato! Poi si schianta! Cioè era troppo laboriosa! E poi mi fa cazzare, oh, arrabbiare! Cosa? E poi mi fa arrabbiare quando ascolta le canzoni di Fasano! Senti, hai collaborato a lungo anche con Bruno Lauzzi, giusto? Figura adorabile, adorata! Beh, Bruno Lauzzi ce l'ho nel cuore, oltre che artisticamente, e anche proprio da un punto di vista umano. Perché lui, come mio papà, non era tanto alto, però era un grande. E come mio papà non guidava, gli ultimi anni delle sue vita ho avuto il privilegio di accompagnarlo un po' di giro, l'ho portato anche a un'edizione del Club Tenko. Però il premio alla carriera sono riuscito a consegnarglielo io proprio in occasione del premio a Mia Martini, di cui dal 2005 curo la direzione artistica. Eccola là la fotografia. E quindi ti ricordava un po' papà? Sì, ma per tante cose. E poi anche come mio papà, purtroppo si è ammalato di Parkinson. Vabbè. Ti commuove il ricordo di entrambi? Mi commuove il ricordo. Beh, poi ci sono tante cose che mi legano a lui. Me lo ricordo quando aveva le bretelle rosse, io gli citofonai, perché mi aveva regalato un foglietto con un suo testo. Diceva, questo testo è troppo corto per essere musicato, diventare un... Prova a vedere se ti viene un'idea. Io sono andato a casa e ho scritto una canzone su quel biglietto. Memo lo sa perché abbiamo fatto una bellissima due giorni a Rocchetta Tanaro per Bruno. E lui voleva dare questa canzone a Fiordaliso, perché mi piacevamo, io poi Marina la conoscevo, ma in quel periodo stava dedicandosi ad altro. E io la mandai a Massimiliano Pani, che produceva come la mamma da tanto tempo. E Massimiliano per due giorni... Un accaso, venga. Che salutiamo. Saludiamo Massimiliano sempre. Massimiliano mi chiama e dice senti, io ho una brutta notizia per me e una bella per te, perché noi avevamo finito il disco, ma la mamma si è innamorata di questa canzone e io non sapevo come fare a dirglielo a Bruno. Allora sono andato personalmente a casa sua e gli ho detto, guarda, c'è Fiordaliso per telefono, te la passo. Allora fortunatamente Marina e Massimo, Massimiliano, si chiamano col matute due, perché gli ho passato il telefono e lui dice, ti passo Marina? E invece era Massimiliano che gli ha dato la notizia che mi avrebbe inciso, certe cose si fanno. Lui mi ha guardato storto, dal basso in alto, mi ha dato il telefono e ha detto, io e te siamo diventati amici. Grande. E quindi Fiordaliso, ma gliel'avate detto che... No, Fiordaliso gliel'ho detto poi dopo, ma Marina... Ah, ok, quindi non gliel'avete sottratta, come dire. No, no, non l'aveva mai saputo. Marina aveva fatto altre canzoni mie, di Brodina, ma adesso ci sarebbe... Tutto scritto nel libro, eh. Va bene, allora quel tutto, quello che volete sapere, lo trovate. E poi c'è tuo figlio, che pensate, siccome il talento si eredita, ha un momento in cui, insomma, esce, scoppia la sua popolarità, per un video fatto alla stazione di Milano, un video messo su YouTube, sui social, su Facebook, che in poco tempo raggiunge 6 milioni di visualizzazioni. Ecco come cambia il mondo e come cambia anche il raggiungimento della popolarità. Lo vediamo. Grazie a tutti. Bravissimo, Emanuele Fasano, Emanuele Fasano, giusto appunto, però vederlo ti emoziona. Ebbè. Che cosa che ti emoziona di più? L'orgoglio? Ma no, non è orgoglio. Innanzitutto questa è farina, è tutta farina del suo sacco, però penso a che cosa provava mio padre quando mi vedeva, ecco. E' un po' la storia che si ripete, no? Ma ve lo siete detti, papà ti ha mai detto quant'era orgoglioso di te, eh? No, ma guarda, io grazie a Regalami un sorriso, piano piano, ho smesso di essere figlio del fotografo fino a un certo punto, perché poi per il pieno di capi lo sono ancora adesso. Però, grazie a Regalami un sorriso, mio padre ha cominciato a diventare un po' il papà dell'autore. Ma io mi sento, grazie a mio figlio, papà d'arte. Questo te lo dico. E questa catena di talento è molto bella. Guarda, io, Emanuele, ha anche ambizioni di autore, di cantare. Adesso ha un progetto particolarmente importante di cui non voglio svelare nulla. Ce lo svelerà lui quando sarà. È difficile avere una personalità artistica solo suonando il pianoforte, senza cantare. E lui ce l'ha, perché quel video, che tra l'altro lo registrò casualmente Alberto Simone, che poi si è rivelato una persona molto importante, un regista importante. Cioè non conosceva tuo figlio? No, non ci siamo, io l'ho conosciuto, grazie a Emanuele. Lui è passato, ha visto questo ragazzo giornalissimo. anzi, pensavo addirittura che non fosse italiano. Ed era la Vigilia Natale. La cosa incredibile è che Emanuele mi aveva detto che aveva sognato suo nonno e gli aveva detto vai a trovare papà a Natale. E così è stato. Cioè Emanuele aveva sognato tuo papà, che si chiamava papà? Antonio. Antonio, che gli diceva vai a trovare papà. Si ferma alla stazione dove spesso mettono, stazione e aeroporti, c'è questa bella usanza di mettere gli strumenti. Si mette a suonare, passa uno sconosciuto, lo riprende, che poi è sconosciuto a noi. Eh certo, una cosa casuale però, sconosciuto per voi e il video va ovunque. Si, pensa che in 40 anni... Secondo me papà Antonio ci ha messo lo zampino. Secondo me anche. E non solo lui. Pensa, in 40 anni di servizio in questo ambiente, io non sono mai riuscito a incontrare una delle più grandi artiste, ma anche discografiche, che è Caterina Caselli. Me l'ha presentata Emanuele perché Caterina dopo aver visto questo filmato ha voluto conoscerlo e ha prodotto il suo primo disco. Ma papà te lo disse quanto era orgoglioso di te? Beh, si vedeva. E tu gli eri detto quanto gli volevi bene e quanto gli eri grato anche? Lo sapeva. Lo Zecchino d'Oro hai fatto anche tante canzoni per bambini. Dai, salutiamoci con un sorriso. Vai. E' meglio Mario a Mario che ha certe cose le dimentica E' meglio Mario a Mario che non è un genio in matematica perché vuoi mettere una cosa semplice in questa e puoi tuffarsi in un gelato al cioccolato E' meglio Mario E' col fango Amedeo magnifico autore non sbagli una nota fai battere il cuore per ogni strumento un canto compone a chi ti ascolta regale emozioni Col fango Amedeo dai fatti narrati due secoli e mezzo già sono passati E' il catalick cammello veloce, alto e snello riesce a carburare con l'energia solare E' il catalick cammello colore caramello ed è naturalmente amico dell'ambiente Facciamo un giretto sul tuo Catati Ok venite qui Catati, Catati, Catati E qui abbiamo chiamato anche i rinforzi Franco Eccoli qua Beh che rinforzi Qui abbiamo Memo che è uno dei motivi per cui faccio questo mestiere quando ho ascoltato le sue canzoni C'è colpa sua Poi c'è lei poi c'è lei che ci siamo e poi ci sono mille voci in un ugolo mille voci in un ugolo Allora Drupi dall'assù cosa vogliamo cantare tutti insieme? Cosa cantiamo Franco? C'è qualcuno con me? Anche? Io vorrei che tu fossi più con noi Tu ogni tanto ci devi venire a trovare perché ci porti tanta gioia tanta allegria tanta saggezza Eh? Giampiero Ma Giampiero Vuole andare a pesca vuole andare a pesca Noi avremo bisogno di un uomo in più Giampiero per cantare questa canzone Eh guarda quella davvero una bella canzone è fatto mi dispiace sempre perché quando fa le cose belle io non godo ma però devo dire che è un capolavoro è una canzone che nel 92 pensa partecipò a Sanremo 30 anni fa quando io ero con Flavio Fortunato e lui contò questa canzone e con quella canzone secondo me siamo diventati molto più amici di quello che sembra Ma che cos'era? Non è vero Un uomo in più Vabbè dai sentite io amo andiamo dai tagliamo la testa al toro Doverà finire il cielo Magari dove dormi tu e respirare sul tuo seno Amo 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 Ma questa canzone avrebbero potuto cantarla a tante voci sai Spardiglia piano una finestra Sì Tra le persiane un po' di blu E non solo Eros Mi sveglio già Mi batti in testa Amo 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 Io amo 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 Ma anche una versione più Alla Tu Solamente Tu Non avere paura E chissà Dalla come l'avrebbe fatta Non sarai Non sarai Non sarai Più sola Più sola Amo Amo Io amo Amo Ma io l'ho sentita cantare una volta anche da Tony Dallara E' il suo momento Cioè A lui Tu Amo E comunque anche la Morlachi potrebbe cantarla Io amo Amo Io amo 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 Franco Fasano Grazie Amo